Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Sri La Prabhupada Kijai Sri Sukadeva Gosvami disse O Re, a meno che non subisca l'influenza dell'energia di Dio, la Persona Suprema, non si potrebbe spiegare come l'anima che possiede una coscienza pura si leghi al corpo materiale. Questa relazione è simile a quella di un uomo che in sogno vede agire il proprio corpo. Ripeto, O Re, a meno che non subisca l'influenza dell'energia di Dio, la Persona Suprema, non si potrebbe spiegare come l'anima che possiede una coscienza pura si leghi al corpo materiale. Questa relazione è simile a quella di un uomo che in sogno vede agire il proprio corpo. Spiegazione. Questo verso risponde perfettamente alla domanda di Maharaj Parikshit, che desiderava sapere come l'essere individuale comincia la propria esistenza nella materia, sebbene sia distinto dal corpo e dalla mente materiale. L'anima spirituale non ha niente in comune con il concetto materiale dell'esistenza, che essa sviluppa allo stato condizionato, ma si identifica con questo falso concetto perché subisce l'influenza dell'energia esterna del Signore, l'Atma Maya. Abbiamo già trattato questo argomento nel primo canto di quest'opera, a proposito della realizzazione che Vyasadeva ebbe del Signore Supremo e della sua energia esterna. L'energia esterna agisce sotto la direzione del Signore e dirige, per volontà del Signore, l'esistenza degli esseri individuali. Di conseguenza, benché nel suo stato originale l'essere sia pura coscienza, subisce, per volontà del Signore, l'influenza della sua energia esterna. La Bhagavad Gita, 15.15, lo conferma, dicendo che il Signore si trova nel cuore di tutti gli esseri viventi e da Lui vengono la coscienza e l'oblio. Potremmo allora domandarci perché il Signore dia la coscienza a un essere e l'oblio a un altro. La risposta è che il Signore desidera che ogni essere individuale sia animato dalla coscienza pura, cioè dalla consapevolezza di essere un frammento della sua persona e che si impegni nel suo servizio d'amore, perché questa è la posizione naturale e originale dell'anima individuale. Ma poiché l'anima gode anche di una parziale indipendenza, può rifiutare di servire il Signore e cercare di diventare indipendente come Lui. Così, tutti coloro che non sono devoti del Signore nutrono il desiderio di avere la sua stessa potenza, anche se non potranno mai averla. Essi sono immersi nell'illusione per volontà del Signore, perché vogliono diventare come Lui. Come una persona pensa di poter diventare il Re senza avere le qualità richieste, così l'essere individuale può desiderare di essere Dio stesso, perciò il Signore lo mette in una condizione illusoria in cui si crederà tale. Il primo desiderio colpevole consiste dunque nel volere essere Dio. Allora il Signore fa in modo che l'essere individuale dimentichi la sua vera esistenza e sogni un mondo utopistico dove egli possa in qualche modo sentirsi uguale a Dio. Se un bambino piange perché vuole giocare con la luna, la madre gli darà uno specchio in cui potrà contemplare il riflesso della luna e così calmerà il bambino capriccioso. Similmente il Signore dà a noi, bambini capricciosi, questo riflesso costituito del mondo materiale. L'essere che si trova in questa illusione, il carmi, tenterà di dominare il mondo materiale, ma ben presto vi rinuncerà frustrato e vorrà solo diventare tutt'uno col Signore. Ma queste due fasi dell'esistenza condizionata non sono altro che sogni illusori. Sarebbe inutile voler risalire all'origine del desiderio di dominare. È sufficiente capire che non appena questo desiderio si manifesta, l'essere individuale viene posto sotto il dominio dell'atma maya per volontà del Signore. Di conseguenza, nella sua illusione, l'anima condizionata dalla materia sogna secondo i concetti di io e mio. Prigioniera del suo sogno, considera il proprio corpo materiale come il suo vero sé e crede di possedere e dominare tutto ciò che è relativo al corpo. Ma questo concetto di sé stessa resta un sogno che continua vita dopo vita finché l'anima non avrà sviluppato la coscienza pura della sua vera identità in quanto parte integrante del Signore. Nel suo stato originale di coscienza pura, l'essere individuale non è vittima di un simile sogno. Egli è sempre consapevole del fatto che non può mai essere Dio, ma solo e sempre il suo servitore eterno legato a Lui da un amore trascendentale. Shri Shukha Devakosva mi disse, se o re, a meno che non subisca l'influenza dell'energia di Dio, la persona suprema, non si potrebbe spiegare come l'anima che possiede una coscienza pura si leghi al corpo materiale. Questa relazione è simile a quella di un uomo che in sogno vede, agire, il proprio corpo. Om Ajnana Timirandasyagyananjana shalakaya chakshurunminitam yena tasmai shri guraveyna maha shri chaitanya manobhishtam stapitam yena bhutale svayam rupakadamayam dadati svapadamtikam vandiham shri gurau shri utapadakamalam shri gurum vashnavamsca shri rupam sagrajatam saganara unatam vitam tansajivam sadvaitam savadutam parijanasaitam krishna chaitanya devam shri radha krishna padam saganalalita shri visakam vittam shca he krishna karuna sindho dina bandho jagatpate gope shagopika kamta radha kamta namostute tapta kanca na gaurangi radha dhe prindavaneshwari prishabhanusuta devy pranamami hari priye vanchakalpatarubhyasca kripasindubhyay vaca patitanampavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha shri krishna chaitanya prabhu nityananda shri dvaita gada dhara shri vasa di gaura bhaktavrinda hare krishna hare krishna 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 hare 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 rama hare rama 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 hare hare jaya shila prabhu paddhi jaya allora inizia questo nuovo capitolo le risposte alla luce dell'insegnamento del signore quindi shukadeva gozvami si appresta a rispondere a tutte le domande che ha posto Maharaj Pariksit e seguirà un ordine cronologico infatti Maharaj Pariksit aveva posto la prima domanda proprio a riguardo di questo punto cioè come succede che l'anima che per natura ha una coscienza pura poi viene cade sotto l'influenza dell'energia illusoria e assume un corpo materiale e si identifica col corpo materiale e shukadeva gozvami inizia a spiegare questo punto e non si potrebbe spiegare questo fatto se non per l'influenza che viene chiamata qui Atma Maya del Signore Supremo la sua influenza illusoria che va ad agire sull'anima condizionata quindi è l'energia di Dio è l'energia esterna del Signore Supremo che crea questo incantesimo e lo crea fa un bel esempio la Prabhupada del bambino che vuole la luna allora la mamma gli dà uno specchio dove è riflessa la luna quindi il bambino ha il così pensa che lì ci sia la luna e smette di fare i capricci e così l'anima condizionata che desidera essere Dio e desidera avere dominio in ultima analisi invidia la posizione di Dio gli viene data questa possibilità di sentirsi Dio infatti qui tutti nel mondo materiale tutti si sentono Dio e il Dio del giocatore il più grande giocatore è un Dio si dice gioca da Dio oppure chi arriva a posizioni elevate nel mondo degli affari o del si sente onnipotente pensate a uno che si alza al mattino e può spendere 200 miliardi di dollari cioè in che negozio può andare potrebbe spendere tutte le 24 ore del giorno a comprare a fare shopping e nel frattempo gli sono aumentati cioè gli è aumentato può possedere perché l'illusione ahamma metti io infatti lo mette tra virgolette perché è un io falso che si espande nel mio e allora uno può comprare praticamente tutto il mondo e ha questa sensazione illusoria e questo viene definito qui Atma Maya l'energia del Signore Supremo è come un altro esempio che può darci l'idea è come lo Stato che crea la prigione per chi vuole essere proprietario di qualcosa che non gli appartiene allora gli dà uno spazio dove lì può può vivere senza muocere alle persone libere e lì può sentirsi come vuole però dentro quei limiti quindi nella sua cella può sentirsi bene ma non può rubare niente forse potrà rubare la scodella del vicino di cella del compagno di cella ma nemmeno quella perché dove la mette dove la nasconde e così il però nel frattempo non nuoce alla proprietà altrui e alla libertà altrui quindi il Signore Supremo lo fa sia di creare questa energia esterna di usare questa energia esterna non è che la crea è un'espansione una sua espansione l'energia esterna serve per dare a chi vuole chi ha questa tendenza la possibilità di sentirsi tale e poi però mette l'influenza del tempo l'influenza del karma che gestiscono questo tipo di energie e allora poi uno se la deve sbrigare con il suo karma e con il poco tempo o tanto che ha a disposizione ecco perché appunto questa energia dice Krishna Bhagavad Gita dai vi esha gunamai mamamaya durattyaya è insormontabile per l'essere condizionato perché è fatta apposta così è come il il penitenziario le mura sono insormontabili non si può evadere le porte sono blindate è proprio fatta così perché le persone che ci abitano dentro hanno dei connotati particolari l'hanno desiderato loro in ultima analisi e quindi gli viene data questa possibilità così le anime che sono in questo mondo materiale hanno questa tendenza a come si dice in inglese lord it over padroneggiare sentirsi onnipotenti e allora viene data loro questa possibilità ci viene data perché se siamo qui è perché in un modo o nell'altro siamo finiti sotto questo incantesimo nel terzo canto dello Srimad Bhagavatam viene spiegato molto bene come funziona questa energia illusoria più nel dettaglio perché l'energia esterna è in linee generali come viene viene descritta l'energia esterna del Signore Supremo nel terzo canto dello Srimad Bhagavatam nel dialogo tra Maitreya e Vidura Maitreya spiega quello che succede poi più nello specifico cioè che Brahma appare dal fiore di loto che spunta dall'ombelico di Garbuda che c'è i Vishnu e dentro ci sono tutte le entità viventi tutte le entità viventi sono messe in questo fiore di loto e la prima entità vivente a venire alla luce è Brahma quando Brahma inizia l'opera di creazione esce come prima potenza come prima sua potenza esce escono questi cinque veli che sono chiamati Tamishra Andatamishra Tamas Moha e Maha Moha Tamishra è la collera perché l'anima condizionata viene in questo mondo per controllare e padroneggiare ma poi non ci riesce perché non è la sua costituzione naturale e ha l'idea pensa di poterci riuscire ma poi alla fine si fa del male con le sue mani e allora comincia ad andare contro la legge del karma vuole correre per fermare il tempo ma il tempo non si ferma mai e questo come risultato si genera la collera infatti se noi guardiamo in giro c'è un sacco di collera un sacco di arrabbiature le persone sono molto arrabbiate con se stesse e con gli altri basta non nulla per andare in escandescenza e anche i rapporti che possono essere nati dalla passione e dall'amore spesso e volentieri si trasformano in collera e in sofferenza questo è il primo elemento che viene chiamato tamishra il secondo invece si chiama andhatamishra ed è la paura della morte tutti hanno una gran paura della morte e lottano per uscire da questa dimensione mortale ma è impossibile uscire perché questo si chiama marityuloka questo mondo il mondo della morte e allora avranno sempre la peggio e infatti le anime condizionate soffrono per la collera e soffrono per la paura della morte questo è andhatamishra tutto questo è dovuto a tamas il terzo velo che ricopre l'anima condizionata ed è l'ignoranza l'ignoranza della propria vera identità quindi l'anima si identifica con ciò che non è con la materia si identifica con il mondo materiale si identifica con questo corpo e questa identificazione viene chiamata moha e genera appunto questa illusione io sono questo corpo e le mie espansioni sono qualcosa che mi appartiene infatti molti dicono sì c'è la morte però poi io genero dei figli e questi figli mi fanno diventare immortale perché proseguono quello che io ho costruito che ho concepito che ho ideato no non è vero perché poi spesso e volentieri prima di tutto i figli fanno altro e poi questa è l'illusione nell'illusione perché anche i figli dovranno morire e quindi alla fine questa moha generata da tamas dall'illusione dall'ignoranza non porta da nessuna parte e infatti l'anima è sempre più frustrata l'anima condizionata a tal punto che entra nel quinto livello di illusione che viene definito maha moha che è l'illusione all'ennesima potenza e per riuscire a sopravvivere in questa dimensione in questa dimensione di sofferenza di ignoranza è costretta a intossicarsi e quindi maha moha corrisponde a una grande dose di intossicazione intossicazione con il corpo ma siccome non è sufficiente perché noi non siamo questo corpo prendendo dosi massicce di intossicanti allora in un certo senso si può sopravvivere a questa a questo calvario che l'anima condizionata è costretta a a portare avanti e quindi intossicazione all'ennesima potenza infatti se noi guardiamo le statistiche e vediamo quanti milioni se non miliardi di etoli di etoli di intossicanti si prendono dal vino al alcolici superalcolici è normale uno dice andiamo a farci l'aperitivo ma cos'è un aperitivo è una dose di intossicante condito bene col limone con questi bicchieri variopinti ma cosa stanno facendo queste persone sedute al tavolo si stanno intossicando e perché perché non possono vivere bene in questo stato di illusione che li porta dall'ignoranza a identificarsi col corpo la collera eccetera tutto quello che abbiamo spiegato e allora l'unico modo per sopravvivere è farsi un aperitivo poi dall'aperitivo si va oltre e ci si ritrova fusi a notte fonda e pronti per cadere nel sonno totale e uno si risveglia e di nuovo ricomincia e questo questo stato d'animo è piuttosto diffuso in questo mondo perché c'è ci sono tutti questi incantesimi che sono generati da Brahma all'alba della creazione quindi è fatta così non è che noi abbiamo potere di cambiare la costituzione dell'universo è fatta così è concepita così quello che noi possiamo fare come Krishna dice molto chiaramente nella Bhagavad Gita mam dice questa è insormontabile ma chi si abbandona a me ne varca facilmente i limiti quindi il Bhakti Yogi in realtà tutte le forme di yoga servono per superare queste barriere dell'illusione perché lo yoga serve a capire a comprendere la differenza che c'è tra l'anima e il corpo anche le forme di yoga più elementari come l'atta yoga come obiettivo hanno questo quello di liberarsi dall'identificazione col corpo capire la differenza che c'è tra il sé e il corpo materiale e come dice Krishna Bhagavad Gita yoginam apisarvesham è di tutte le forme di yoga la più elevata è il Bhakti yoga quindi il Bhakti yoga a cosa serve? serve a ritrovare questa connessione perduta col Signore Supremo e una volta riconosciuto riconosciuta la nostra patologia una volta riconosciuta la nostra vera identità si esce da tamas si esce dal dominio di tamas dell'ignoranza che ci porta a pensare di essere il corpo moha non c'è più bisogno di intossicarsi maha moha perché l'anima è piena di felicità e non c'è più collera tamisra e non c'è più la paura della morte anda tamisra tutto questo perché perché in ultima analisi Krishna apre un varco come uno che è in prigione e viene liberato dalla prigione ma solo lui o lei solo per lui le porte della prigione si aprono tutti gli altri rimangono dentro e si ritrova libero così le porte blindate dalla prigione costituite dalla tra influenze della natura materiale aprono un varco per l'anima che decide di smettere di essere condizionata e si affida di un maestro spirituale che è in grado di aprire queste porte blindate perché gli è stata data la chiave dal Signore Supremo se vogliamo rimanere all'esempio di prima e quindi noi affidandoci alle direttive di un maestro spirituale siamo salvi perché il maestro spirituale ci apre più che ci apre ci insegna ad aprire il suono se è riattivata quando noi diciamo che il mantra è il suono che purifica la mente il maha mantra ha questo potere ha il potere di portare la nostra coscienza dal piano condizionato al piano liberato e il filtro che non permette all'anima di arrivare alla liberazione è la mente condizionata e la mente da cos'è condizionata la mente da tutte le condizioni nelle quali è caduta che sono fatte di una moltitudine di pensieri che sono il frutto delle nostre azioni quindi la mente è piena è un concentrato di pensieri che sono la risultante di un'infinità di azioni questi pensieri creano una coltre uno spessore che è e la luce del mondo spirituale non filtra non filtra e la coscienza non può che è l'espansione dell'anima non può entrare in contatto con questa luce perché è coperta da questa coltre di pensieri che filtra la luce originale il maha mantra ha questo potere riesce a purificare la mente e piano piano comincia a filtrare della luce se il maha mantra è cantato correttamente ha questo potere e questo potere ce l'ha anche la conoscenza trascendentale soprattutto perché ci mette in contatto con il nostro vero sé e ci dice realmente chi siamo e allora noi abbiamo la forza di attivare tutti gli strumenti che sono a nostra disposizione per fare in modo di purificare la mente allora c'è stata data questa grande opportunità e se impariamo a usarla bene il risultato sarà che ci ritroveremo con la mente liberata karmana manasa gira dice rupa gozvami karmana manasa gira nikilash papya pastasyu jivan mukta saucyate o come abbiamo studiato ieri sera nell'appuntamento con lo studio della bhagavad gita quando un'anima atma diventa mahatma quando si impegna costantemente satatam kirtayantamam yatantas chadridhavratà grazie quando l'anima si impegna satatam kirtayantamam perché allo stato liberato l'anima canta Hare Krishna costantemente perché sviluppa una relazione di intimità con Krishna tale e il nome di Krishna non è diverso da Krishna quindi sente proprio questa connessione completa e cantando Hare Krishna in compagnia di Krishna soprattutto in Kali Yuga dove Krishna si manifesta attraverso il santo nome e satatam kirtayantamam o canta Hare Krishna o legge lo Srimad Bhagavatam che è l'espansione di Krishna nella forma di Shastra satatam kirtayantamam yatantas chadridhavratà e si sforza perché in questo mondo siccome questa coltre è formata da questi cinque veli così spessa si deve costantemente sforzare di creare questa breccia di connettersi con il Paramatma con l'anima suprema ci vuole uno sforzo e dridhavratà una ferma determinazione e namashyantas ciamam nityam ciamam bhaktya nitya yukta upashyate e a quel punto namashyantas sente il desiderio di offrire il suo omaggio Krishna perché alla fine scopre tutto l'inghippo scopre tutto 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 quello che è successo da un numero incalcolabile di vite come spiega Cittania Mahapra con gli insegnamenti a Sanatana Goswami un numero incalcolabile di vite nelle quali l'anima è costretta a peregrinare da un corpo all'altro passare da un corpo all'altro da un universo all'altro da un pianeta all'altro costantemente per cercare di trovare il bandolo della matassa se il Bhakti Yogi arriva a praticare correttamente il Bhakti Yoga sotto la guida del maestro spirituale sente la presenza di Krishna costante e automaticamente sente questa gratitudine che si che si dimostra che si traduce nel suo ringraziamento grazie e questo ringraziamento poi va al maestro spirituale ecco perché noi offriamo tutti i giorni i fiori al maestro spirituale significa grazie grazie a te sono uscito dal labirinto di Maya o sto per uscire o almeno so che si può uscire ecco questo questo ringraziamento si può espandere all'infinito dal grazie che mi hai dato un barlume una scintilla di luce in questo oceano di oscurità ti offro dei fiori e mi inchino alla tua presenza al ringraziamento totale quando uno arriva a raggiungere la piena liberazione perché si rende conto sempre di più giorno dopo giorno che se non fosse stato per la misericordia del maestro spirituale tutto questo non sarebbe potuto accadere e allora il suo senso di gratitudine diventa infinito a tal punto che sente solo l'esigenza di soddisfare l'ordine del maestro spirituale Shri Guru Charanerati Eise Uttamagati cantiamo tutti i giorni seguire le istruzioni del maestro spirituale l'attaccamento ai piedi di lotto del maestro spirituale che si traduce nelle sue istruzioni Eise Uttamagati è la perfezione ultima Iepra Shade pure salva e per la misericordia tutti i desideri di perfezione spirituale sono soddisfatti e ecco perché si arriva alla piena soddisfazione perché i nostri desideri sono completamente appagati desideri materiali non ce ne sono più e sono la causa della schiavitù e i desideri spirituali sono quelli di ricongiungersi con Krishna e grazie al maestro spirituale questo diventa possibile quindi Sukadeva Gosvami inizia a rispondere a Maharaj Parikshit e ci dà un'idea chiara di come stanno le cose ecco perché dicevamo che ieri sera Satatam Kirtayantumam perché il Bhakta è sempre impegnato al servizio di Krishna dal punto di vista del materialista non è comprensibile una cosa del genere ma perché non vai a divertirti ma perché cioè il materialista pensa ma perché non fai anche dell'altro perché nel Kirtan nella glorificazione del Signore Supremo nel servizio al Signore Supremo è tutto incluso perché l'energia materiale è un'espansione del Signore Supremo quindi il chi ha superato i limiti dell'influenza della natura materiale non sente più la necessità di avere a che fare con la natura materiale direttamente indirettamente per impegnarla al servizio di Krishna ma allora quell'energia si trasforma in energia spirituale ma anche il materialista però dedica tutte le sue energie completamente all'illusione sotto varie forme ma sono sempre Tamishra da Tramishra Tamas Moa e Mahamoha comunque tu la puoi girare in un modo o nell'altro devi lavorare come un matto per mantenere mantenerti in questo mondo mantenerti nell'ignoranza della tua vera identità e per coprire questa ignoranza ti devi intossicare e trascorrere la vita così allora il Bhakti Yogi ha compreso come funziona tutto questo meccanismo e ha deciso di uscire da questo incantesimo dell'energia illusoria e se prega con intensità si impegna Yathantasya Dhridhavratta si sforza con grande determinazione succede è come quando si canta Hare Krishna il Giapa del mattino il primo giro è una fatica e ci vuole più tempo il mantra scorre più lentamente i pensieri sono sempre sono molti e sono il frutto del karma dei giorni precedenti ma se ci sforziamo con grande determinazione giro dopo giro giro dopo giro alla fine si arriva ad ascoltare solamente il maha mantra e la mente condizionata si dissolve il il flusso dei pensieri si dissolve e si crea un un varco dove la l'anima è in contatto con Krishna attraverso il santo nome quindi noi tutti i giorni possiamo sperimentare questa meraviglia se ci impegniamo seriamente nel seguire l'istruzione degli acciari tutto questo può accadere e se lo facciamo giorno dopo giorno giorno dopo giorno alla fine saremo totalmente guariti è come un grande ospedale il movimento per la coscienza di Krishna dove uno entra si rende conto delle sue patologie e si affida alle cure di un medico esperto che piano piano lo fa guarire e lo fa uscire dalla questa dimensione di dimenticanza del Signore Supremo ed è il ricordo del Signore Supremo in ultima analisi la medicina più potente per uscire da questa da questo incantesimo il ricordo del Signore Supremo significa l'accettazione che il Signore Supremo è il Supremo e noi siamo i servitori è esattamente il concetto originale che ci ha portato nel mondo materiale cioè la non accettazione di tutto questo quando lo comprendiamo e impariamo ad accettarlo perché comprenderlo e basta non è sufficiente perché non cura alla radice se uno lo comprende e si accontenta di averlo compreso ma non si impegna con determinazione sotto la guida degli acciari non cura veramente questo male se possiamo definirlo così alla radice e allora c'è la comprensione sì sono un'anima spirituale Krishna è Dio sì ma c'è una comprensione teorica non c'è una piena realizzazione e quindi non c'è una piena accettazione e noi possiamo anche ripeterlo centinaia di volte che Krishna è Dio possiamo ripetere migliaia di volte il Mahamantra ma non c'è vera accettazione nel cuore la vera accettazione la dà solo Krishna nel cuore quando vede che noi ci impegniamo con sincerità nel seguire il metodo allora comprendiamo veramente che cos'è la coscienza di Krishna e diventa poi naturale satatam kirtayantam essere costantemente impegnati al servizio di Krishna e quando incontri un materialista che ti dice ma il suo giudizio gli rimbalza addosso non ti tocca più prima ti ti poteva quando la fede è vacillante il giudizio dei materialisti penetra nella tua coscienza e ti dà fastidio quando invece si arriva a una comprensione a realizzazione completa si diventa invulnerabili in un certo senso e il giudizio dei materialisti rimbalza in questa in questa aura inattaccabile e la persona che giudica malamente poi pensa ma come stanno bene io che sono andato dal meccanico mi ha detto è che tre quattro volte mi vede e mi fa quasi quasi mi metto una tunica arancione anch'io e vengo con voi nella sua frase c'era come vi invidio perché è un'invidia però è un'invidia benevola genuina positiva ecco allora noi possiamo fare questo miracolo per noi e se ci sottoponiamo al trattamento che hanno messo a punto per noi grandi acciari da tempo immemorabile noi facciamo parte della Brahma Maddva Godia Sampradaya quindi capostipite Brahma siccome questi veli di illusione emanano da Brahma se noi seguiamo i suoi insegnamenti possiamo uscire da questo incantesimo e una volta che siamo usciti noi possiamo capire veramente senti come funziona in profondità nel dettaglio e siamo in grado solo a quel punto di aiutare gli altri a uscire prima non è possibile va bene grazie a tutti dell'attenzione grantarā śrīman bhāgavatam ki jāi śrīla prabhupāda ki jāi gaurā premanandhi grazie a tutti